Spesso, mentre posiamo il nostro sguardo sopra un'immagine d'arte, siamo colpiti da un'irrecusabile sensazione di paradosso. Ciò che ci affligge immediatamente e senza giri di parole è il segno del turbamento. Come se si trattasse di qualcosa di evidente, che resta oscuro. Al contrario, ce ne accorgiamo subito. Ciò che ci appariva chiaro e distinto è solo il risultato di una lunga deviazione. Tutto è molto banale, alla fine, in questo paradosso. È il destino di ognuno di noi. Il destino di ognuno di noi. Il destino di ognuno di noi.